salve a tutti i 29 video in questo video vi porto a forza se volete cominciare il video vi dite se volete con il video in relazione al scorso video avevate visto che avevate visto l'evento finale del capitolo 2 quindi ragazzi oggi poi si inizia con un altro capitolo c'è il capitolo successivo che è capitolo 3 quindi ragazzi non parliamo troppo e partiamo vediamo com'è il capitolo 3 l'ultima volta che avevamo visto eravamo tipo come si dice eravamo c'è una onda che ci ha distrutto ma siamo sopravvissuti aiuta quindi ah quindi inizia così ecco vediamo ah come diretti siamo in una isola siamo venuti in una isola 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 chi sei tu guarda c'è anche una canzone una musica direi ciao non posso dire che sei bellissima perché sei di colore rosa guarda c'è esistente una cosa sei rosa e disesistente non è non esista quella cosa bene chi ho trovato siediti ok credo di dovervi una spiegazione ok spiegaci ragazzi finché continueranno a sfruttare il punto zero tutto sarà il pericolo Con il vostro aiuto potremo liberarci da questo posto e lasciare il lupo per sempre Andremo a casa Quale casa? Non ho capito di quale casa sta parlando Ecco la nostra nuova mamma Eh che bello Quindi è girato Cosa è girato Cioè hanno girato la mappa come avete visto nella scorsa vita E' quello che quando stava girando la mappa viaggia Vi ricordate che vi ha detto che Quindi il mondo precedente Stava girando Cioè per venire un altro nuovo mondo Oh Spider-Man guarda Tanto una cosa Compra pass battaglia Una cosa che io non posso fare scusate Andiamo Ma c'è qualcosa di nuovo C'è Uh Cosa Ah mi da quelle cose precedenti Allora Equipaggiamo 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 Ah ragazzi Condivita Sì Guarda Una Cosa come si dice E' un piccone Ah quindi ragazzi mi ha dato quelle Quelle cose precedenti Che Nel capitolo precedente Che non sono riuscito a prenderlo Dai equipaggiata Avanti Anche questo ragazzi Equipaggiamo Equipaggiamo E' questa ragazza assolutamente Sì Una Schermata Ok Guarda Sì anche questa E' riscattiamo A 200 V-Bucks Ok Eccomi Raccogli Encomi Nelle modalità Con questa XP Icona Gli Gli Encomi Conferiscono Pie E ti aiutano A far Progredire Il pass Battaglia Ah quindi ragazzi Ah questa cosa Aspetta Ah no Mi hanno invitato uno Come grazie guardate Guardate il nome E se siete voi uno di iscritti Mi fate sapere Se lo siete Così vi accetto Se no ragazzi Lo lascio così Com'è Intanto guardate Questa parte Che bellissima Armadietto Sì Queste cose Che abbiamo presa Sì Equipaggiamo Ovviamente Pure questa Questa Mi adatta Questa ragazzi Mi adatta Epic Games Ma Come ho presa Come ho un altro nuovo Prendo questo Ovviamente Questo Lo cambia Sì Cambia ragazzi Tutto qui E scusate ragazzi Se lo faccio adesso E tanto Quosa cambia Volevo Come volevo Tanto come Volevo Farvi Vedere Il Cosa Cioè Quando sono Ragazzi Quando ho aperto Forte Avevo visto Che c'era Iscritta Inizia il capitolo Inizia il capitolo Come si dice Anche questo Ma Io Equipaggio Questo Tanto Dai E Il piccone Sì Non mi interessa E scusate Tanto adesso ragazzi Cosa faccio Guardate Metto nella modalità Singola No Singola 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 Qui c'è Un spider Nero A proposito Spiderman Aspetta che vado Nel pass Battaglia Posso trovare Queste cose Wow Guarda Bellissimo Poi Questa Cos'è Immaginavo Immaginavo Che era Un Era un Zaino Come dire Anche questo Dettaplano Bello Il Dettaplano Poi Qui 100 V-Bucks Ah Sì Aspetta Un piccone Tanto ragazzi Queste cose Ragazzi Io li vedrò Con calma Avete capito C'è Li vedrò Con Calma Quindi Non vi faccio Tanto Non voglio Perdere Il tempo Perché Ho voglia Di entrare Aspetta Cos'è Questo Di nuovo C'è Non Aspetta Tante Cose Qui Quindi C'è Adesso Voglio Vedere Il Cosa C'è Adesso C'ho Voglia Di Vedere C'è La Mappa Come E Voglio Vedere Se Sono Uscite Delle Nuove Armi Se Sì Benissimo Se No Non Lo So Ecco Per Fortuna Controllate Il Telephone Adesso Perché Era Non Era Nella Modalità Silenziosa Ma Guarda Non Basta Se Tutto Che In realtà Non Mi Preoccupato Tutto Guarda Quindi Rompe Così Aspetta Questa No Aspetta Che Devo Dai Lasciami Un Nuovo Cecchino Guardate Siamo Siamo Nell'isola L'isola Strana Oh Che Bella Guarda La Mappa Che Non So Cosa Io Andrei Qui Tanto Piano Piano Ragazzi Tanto Ragazzi La Mappa Io Voglio Io Voglio Scoprirla Con Tanto Ah Quindi C'è un po' Di neve Neve Capito Come sta Come va Adesso Dicembre E sta Arrivando Pure Il Nostra Già I miei occhi Che Prude Adesso Adesso Ah Guardate Ci sono Anche Decorazioni Natalizie Tanto Ragazzi Se Se Sapete Che Ho Voglia Di Io Ragazzi Non Ho Mai Cos'è Questa Ah Si Si Da Assata Cos'è Questa Quindi Nuova Questa Si Spazia Se Clicca Questa Ma Posso Portare Con Me Aspetta Se Clicca Ripasa Si Ma Dove Il Mia Via Rom Adesso Non C'è Il Mia Cosa No Dove L'avete Messa Dove L'avete Messa Si Come Si Come si Chiama Ah Bobine Brulle Si Chiama Guarda Ecco Era Inutile Rompere Guarda Una Pompa Nuova Guarda Sta Arrivando Qualcuna Ovviamente Veri Il Ceste Credo Ecco To Spara Veri Il Ceste Ragazzi Niente Guardate Se Te Vieni Qua Te Sparo Non Sai Dove Andrai Quando Te Sparo Ma So Che Andrai Da Qualche Parte Cosa Sarebbe Questo Wow Lo Prendo Al posto Di Vende Al posto Delle Vende Quindi Aspetta Tenda Tenda Si Questa Cosa Si La Tenda L'ho Già Presa Guardate La Armi Nuove Nuove Intendo Nuove Nuove Non Pensate Altro Nuove Intendo Ragazzi Ho Visto Il Cesto Quindi Non Serve Che Vi Preoccupate Che Aspetta Cos'è Questa Ah Quindi È una Una Cosa Nuova Intanto Voglio Vedere Se Io Faccio Così No E Clicco Ma E sto Riposa Qui Non la Guarda Ragazzi Guarda Non Guarda Ragazzi Scusate Ragazzi Una Cosa Che Ho Visto Nuova E Quella Di Questa Ma Scusate Ma Loro Ma Perché Voglio Un Fucile Sì Ma Tanto Ragazzi Oggi Non Prendo Questa Tanto Come Ragazzi Vi Ho Detto Che Vi Voglio Scoprire Questo Post Con Y Detto Di Tanto Dette Di B Nooo Wow Te scendi No Si sono qui Hai scelto Aiuto Devo fare il coso Devo curarmi Io vado qui Devo curarmi Adesso te la vedi con me Tu non sai chi sono io Sei qui Ho paura Intanto dai Mettiamoci Il profumo Finchè Io Già fatta Quindi forse spero che Se ne è andato Ragazzi Posso fare lo spray Buon'idea Faccio direttamente questo Bene Te prendo Aspetta voglia Controllare una cosa No Volevo vedere se il mio Bene Se ne è andata Aiuto Non 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 Che Forse hanno messo Un nuovo Wow Tua madre Tre Non sa cucinare Non Ragazzi In modo che spara Non lo sa Sembra che È arrabbiato Perché La sua mamma Ha cucinato male Come Ha cucinato male La sua madre Cosa Ho visto uno Ragazzi Sono Stanco Di guidare Le macchine Adesso voglio guidare Questa Bene Bene Vado Sono Perfetti Per Sono Perfetti 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 Vedo un ragazzo Se riesco a fare La La mia prima Vittoria Reale Cos'è questo? Ah Dovevo prendere Ullalai Quante Io Guarda Tutte cose Riesco a fare Tutte cose Cosa Con Oh Ah no Ah Va Benzina Vai Ah Ma qui non c'è La radio Perfetti La radio Perfetti Vai Rompi Tutto Tu Ho paura Tu Ho paura Questa Intanto Ecco Devo andare da questa parte Perché Sarà Pure meglio Prendiamoci Se qualcuno vuole Rompermi Venga Faccia a faccia Cos'è questa Non mi interessa Sì Questa Si Dai Preso Tutto Allora Ora Ora Si guida Come si deve Ora Guardiamo Come si deve Sapete che ragazzi A me Forse Non funzionava Così l'ho Disinstallato Dopo l'ho Rinstallato No ragazzi Questa cosa Vi dico Perché io volevo Già portare Quando era Quando il capitolo 3 Era disponibile Io volevo portare Già Il capitolo 3 Ma Non sono riuscito Perché Non funzionava Qua No Adesso Dove vado Ah no Forse davanti C'è Qualcosa Per Così Metto la benzina Credo che ragazzi Come sta arrivando A mezzo dicembre E' pure Natale E' come sta E' altrimenti Pure il Natale Così hanno La Deco Guarda Io devo fare La benzina E no Guarda Com'è Bello Adesso Ciao 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 Ti rompi Io Io non voglio Finire cosa Faccia 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 Vieni Faccia Faccia Che ti rompo Non sa dove sei Non sa Oh Guarda Già No 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 Please 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 Nella Non puoi fare No Please Se c'è chi ascolta chi qui Una partita Così Così Oh Ragazzi C'è Che Che partita Tanta Eh sì ragazzi Succede con me sempre Quando penso Io avevo pensato Dai Eh 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 Questa è la mia C'è Allora Quello che io pensavo Adesso Adesso ho capito C'è capitolo Tre Stagione Uno Non lo so perché è andato indietro Doveva arrivare stagione Nove No Comunque Ragazzi Sapete che bello che c'è una statua qui Comun grazie Vi concludo con il video Se vi è piaciuto Lasciate la sita canale E se vi è piaciuto Eh La mappa E questo quello Iscrivetevi nei commenti cosa ne pensate di 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 questa capitola Io vi saluto e ci vedo un prossimo video E Ciao Ciao